Il gol che hai fatto è la punizione, se hai fatto la sensazione di avere una calzata più forte in sua scuola, un giorno che stia abbassando a un certo punto, quanto vuoi il punito, la qualità del tuo tiro o la condizione del vento? Non voglio essere presuntuoso su questa, però se ci sono già altre punizioni, praticamente ho fatto gli stessi gol. Lo stesso gol hai detto? Sì, ci avevi anche provato qualche minuto prima e lì invece il scoglio ci è arrivato. Purtroppo sì, di solito calcio sempre sopra la barriera, però se mi accorgo come un portiere che fa prima il passo, calcio il secondo parco. Che partita è stata? Noi l'abbiamo preparata molto bene, purtroppo come ha detto il mister prima non eravamo tutti. Io oggi ho giocato con una tripla frattura sul quarto dito del piede destro, però siccome c'erano esigenze, ma lei era fuori. Trovate, ha preso un calcio, schiamano le scorse, c'era un buco nella gamba. Martorelli purtroppo è stato operato all'appendicite, bisognava costringire le denti e questa era la partita che dovevamo fare e l'abbiamo fatta molto bene. Quanto vale per voi questo derby? Per noi, per i tifosi, questo derby vale tutto. È da dopo la partita di settimana scorsa che ci chiedono tutti i giorni, abbiamo avuto i tifosi al campo a chiederci la vittoria. Penso che li abbiamo accontentati nel modo giusto perché non siamo venuti qua a rubare niente, siamo venuti qua a fare la prestazione prima di portare a casa il risultato e ci siamo riusciti sia a fare una grande prestazione che a portare via il risultato. Diciamo che l'obiettivo era la salvezza e questo derby ti mette in crisi, ti mette in crisi positiva nel senso che si può fare molto di più con una semplice salvezza perché la squadra, perché la società, perché i giocatori ti permettono di adambire a qualcosa di più prezioso. Scusa Scusa